Musica Musica Anche se in amichevole del Napoli ha perso 2-1 contro la Cavese La squadra di Rei ha sottoduto gol, ha accorciato le distanze solo nel finale Grazie ad una rete di Russotto Lavezzi è tornato ieri puntuale dalle vacanze di Natale Ha giocato e il secondo tempo si è fatto trovare subito in buone condizioni fisiche Andiamo a sentire su di lui l'allenatore, è di Rei Musica 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 Grazie a tutti.